bentornati nel mio canale con un nuovo tutorial della collezione summer trends come vi ho detto negli altri tutorial il protagonista della mia collezione è il colore in tutte le sue sfumature questa volta ho voluto abbinare due tipi di colore un colore unico e un colore sfumato ho usato il multicolor della tre sfere filo di scozia numero 5 e il colore fucsia della tre sfere sempre numero 5 e l'uncinetto del 3 è un top down è un punto molto bello e veloce da realizzare e adesso partiamo con il tutorial prima di iniziare a lavorare vi faccio vedere il mio sprone questa volta faremo una tecnica top down lo sprone che sto facendo è uno sprone rettangolare quindi dobbiamo prendere la circonferenza della nostra testa e avviare una catenella pari alla nostra testa il multiplo del nostro punto è multiplo di 8 nel mio caso ho avviato 112 catenelle e come vedete non è molto scollato la mia circonferenza della testa si aggira intorno ai 57 58 centimetri quindi giusta per poter entrare dalla testa se cambiate filato e uncinetto mi raccomando prendete la circonferenza della testa e avviate una catenella poi mettete la piano sul sul tavolo e col metro misurate il punto che dobbiamo fare si ripete sono due giri io ho fatto il primo giro senza dividere il mio sprone quindi ho fatto lavorato la catenella senza fare gli angoli nel giro successivo poi ho diviso gli angoli per potermi trovare la spalla il davanti e dietro per questo progetto dobbiamo avere un numero di motivi pari quindi siccome è multiplo di 8 se casomai avete un seno più abbondante del mio aggiungete 8 catenelle sul davanti e 8 catenelle sul dietro per poter aggiungere almeno due motivi se volete aggiungere più motivi lo volete più largo ricordatevi sempre di avere motivi pari adesso detto ciò vi faccio vedere come si inizia la lavorazione e come si prosegue fatto le mie 112 catenelle che corrispondono a 57 58 centimetri se volete una scollatura più abbondante aggiungete sempre il multiplo che di 8 ricordatevi però che abbiamo bisogno di numeri di motivi pari quindi andate a aggiungere un motivo sul davanti un motivo sul dietro una volta che avete stabilito la vostra larghezza entro con l'uncinetto nella prima catenella di base dove abbiamo chiuso dove abbiamo iniziato il lavoro e chiudo con una maglia bassissima iniziamo a lavorare il motivo il motivo del primo giro sono maglie basse e ventaglietti di tre maglie alte una catenella e tre maglie alte riprese nello stesso motivo con una catenella di separazione quindi inizio con una catenella per alzarmi rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa e lavoro una maglia bassa catenella salto 3 maglie di base 3 catenelle 1 2 3 nella quarta lavoro 3 maglie alte 1 2 3 matenella di separazione rientro nello stesso punto lavoro altre 3 maglie alte 1 1 2 2 e 3 ripeto la catenella di separazione salto 3 catenelle di base 1 2 3 nella quarta lavoro una maglia bassa catenella di base 1 da un'altra catenella salto 1 2 3 e ripeto il ventaglietto nella quarta catenella 3 maglie alte 1 2 3 catenella rientro 3 catenelle 3 maglie alte nella stessa catenella 1 2 3 1, 2 e 3. Questo è il primo motivo, questo è il secondo motivo. Adesso dobbiamo fare il terzo motivo. Catenella di separazione. Salto 3 catenelle di base, 1, 2, 3 nella quarta, maglia bassa. La tenella, salto 1, 2, 3, nella quarta lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella di separazione, rientro 3 maglie di base, rientro sempre nello stesso punto, 3 maglie alte, 1, 2, e 3. Catenella. Quindi andiamo a ripetere questo motivo per tutta la catenella. Arrivata al termine del giro, ho fatto l'ultimo ventaglietto, la catenella, salto 1, 2, 3 e vado a chiudere dove ho iniziato con la maglia bassa. Entro e chiudo con una maglia bassissima. Questo è l'inizio del mio sprone. Mi ritrovo con 14 motivi, quindi contando i ventaglietti sono 14 e ho motivi pari. A questo punto devo suddividere le spalle, il davanti e il dietro. Dobbiamo tener presente il punto basso perché il punto basso è il punto in comune della spalla e del davanti e della spalla e del dietro per fare l'aumento. Quindi noi l'aumento lo faremo sul punto basso e vado a contarmi i motivi e io me li divido in questo modo. 5 li vado a dividere sul davanti e dietro. 1, 2, 3, 4 e 5. Qui ho il punto basso, qui faremo l'aumento. Ho già l'uncinetto e vado a mettere il segno su questo punto basso. 5 e adesso vado a contare 1, 2, 3, 4 e 5. E quindi 2 sulla spalla, il punto basso mi serve per l'aumento. 3, 1 e 2, il punto basso mi serve per fare l'altro aumento. E ho 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi voi stabilite la vostra circonferenza, lavorate il motivo come vi ho fatto vedere e tenete presente il punto basso. Quindi una volta che avete individuato il punto basso, dividete i motivi sul davanti e sul dietro uguale e sulla spalla i stessi numeri di motivi. Adesso dobbiamo lavorare il secondo giro e da adesso in poi inseriremo gli aumenti. Il secondo giro, dove abbiamo la maglia bassa, dobbiamo lavorare un punto V. E qui a questo punto dobbiamo fare l'aumento e ve lo faccio vedere come dobbiamo lavorare. Iniziamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Catenella di separazione, le prime 3 sono la maglia alta e una la catenella di separazione. Rientro nella stessa maglia bassa e lavoro una maglia alta. Il primo punto V. Siccome devo fare l'aumento, ne devo lavorare due di punti V, però lo distanzio con una catenella. Quindi faccio la catenella, filo sull'uncinetto, entro dentro e lavoro una maglia alta, catenella, rientro, maglia alta. Mi ritrovo con due punti V, 1 e 2. Dove ho fatto la catenella di separazione me lo vado a segnare. Perché dal giro successivo qui lavoreremo la maglia bassa e qui invece il ventaglietto di 3 maglie alte, catenelle 3 maglie alte, è anche qui. Quindi l'aumento sarà del ventaglietto. A questo punto lavoro due catenelle di separazione, 1 e 2. Perché dobbiamo scavalcare le 3 maglie alte e al centro della catenella lavoro una maglia bassa. Due catenelle, 1 e 2. Qui ho la maglia bassa e lavoro un punto V normale. Mi ritrovo sulla spalla e quindi non devo fare l'aumento. Catenella e maglia alta. L'aumento lo facciamo solo sugli angoli. Due catenelle, 1 e 2. Vado qui, entro nella catenella di separazione e lavoro una maglia bassa. Due catenelle. Qui ho la maglia bassa. L'ho segnata, quindi significa che devo fare l'aumento. E a questo punto lavoro due punti V distanziati da una catenella di separazione. Quindi entro dentro e lavoro il primo punto V. Maglia alta. Catenella. Rientro maglia alta. Devo lavorare l'altro punto V e lo distanzio con una catenella. Prendo il filo, rientro dentro e lavoro maglia alta, catenella e maglia alta. Mi vado a segnare dove ho fatto la catenella di separazione. E questo è il primo punto V, questo è il secondo punto V. faccio la catenella, anzi due catenelle perché devo scavalcare le tre maglie alte e vado al centro e faccio una maglia bassa. Due catenelle, 1 e 2. Qui a questo punto lavoro il punto V normale perché non devo aumentare. Catenella e maglia alta. Due catenelle. Vado qui, lavoro la maglia bassa. Due catenelle. Vado sulla maglia bassa e lavoro il punto V. Catenella, rientro, maglia alta. Due catenelle e maglia bassa. Proseguite questo e poi vi faccio rivedere come fare l'aumento. Proseguito la lavorazione e mi ritrovo dove ho il segno. Significa che qui devo fare l'aumento del punto V. Entro, lavoro il primo punto V, maglia alta. Catenella e maglia alta. Lavoro una catenella per distanziare l'altro punto V. Catenella di separazione. Filo sull'uncinetto e ripeto il punto V. Maglia alta, catenella e maglia alta. Mi vado a segnare dove ho fatto la catenella per distanziare il punto V. Due catenelle, uno e due. Qui al centro lavoro una maglia bassa. Due catenelle, uno e due. Qui il punto V normale, quindi un punto V, perché non ci troviamo sugli angoli. Due catenelle, maglia bassa, due catenelle e qui ho l'altro angolo. Vado a fare l'aumento. Entro nella maglia bassa e lavoro il punto V. Maglia alta, catenella e maglia alta. Questo è il primo. Catenella di separazione. Rientro e lavoro un secondo punto V. Catenella e maglia alta. Mi vado a segnare anche questo. Due catenelle di separazione. E proseguo adesso la lavorazione fino a terminare il giro. Continuato la lavorazione, questo è il risultato. Vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella del primo ventaglietto. Ho fatto le due catenelle, quindi faccio uno, due e tre. E chiudo con una maglia bassissima. Dobbiamo ripetere il giro numero uno. E a questo punto dobbiamo lavorare il ventaglietto di tre maglie alte, catenelle e tre maglie alte e la maglia bassa. La maglia bassa la lavoriamo sulla maglia bassa e il ventaglietto nel punto V. Però questa volta facciamo una catenella di separazione. Con maglia bassissima e porto al centro del punto V. E faccio un'altra maglia bassissima. Qui ho l'aumento. Quindi sul primo ventaglietto lavoro, sul primo punto V lavoro il ventaglietto. e faccio tre catenelle, che è la prima maglia alta. Rientro e lavoro altre due maglie alte. In un totale di tre. Catenella. Rientro nel primo punto V. Tre maglie alte. Uno. Due. E tre. Una catenella di separazione. Qui dobbiamo fare una maglia bassa. Entro nel punto V e lavoro una maglia bassa. Una catenella. Mi segno la maglia bassa perché dal giro successivo, sulla maglia bassa, lavoreremo di nuovo l'aumento del punto V. E me la risegno. Fatta la catenella, qui ho l'altro punto V. L'aumento e anche qui lavoro le tre maglie alte separate da una catenella. Due. E tre. Catenella. Rientro tre maglie alte. Uno. Due. E tre. Ecco come si presenta adesso dove abbiamo fatto l'aumento. Catenella di separazione. Qui ho la maglia bassa e sulla maglia bassa lavoro un'altra maglia bassa. Catenella. Qui ho il punto V e all'interno lavoro il ventaglietto. di tre maglie alte. Due. E tre. Catenella. Tre maglie alte. Uno. Due. E tre. Catenella di separazione. Ripeto la catenella di separazione. Sulla maglia bassa lavoro un'altra maglia bassa. Catenella. E qui ho l'aumento del punto V. Sul primo punto V lavoro le tre maglie alte. Uno. Due. E tre. Catenella di separazione. Altre tre maglie alte sempre nello stesso punto. Uno. Due. E tre. Dove abbiamo fatto la catenella per distanziare un punto V dall'altro. Lì lavoro la maglia bassa. Quindi faccio la catenella. Entro in questo spazio della catenella. Lavoro maglia bassa. Catenella. E metto sempre il segno qui. Ripeto il ventaglietto. Una catenella. E tre maglie alte. Uno. Due. E tre. Catenella. E adesso lavoro la maglia bassa sulla maglia bassa. Proseguo questa lavorazione fino a terminare il giro. Quindi dove ci troviamo il punto V dell'aumento sul primo. Lavoriamo tre maglie alte. Una catenella. E tre maglie alte. Quindi ripetiamo il ventaglietto. Dove abbiamo messo il segno. Lavoriamo una maglia bassa. E sull'altro punto V. Lavoriamo di nuovo il ventaglietto. Proseguite questo. E ci vediamo al termine del giro. Per farvi vedere come iniziare un nuovo giro. Sono arrivata al termine del giro. E come vedete. Il punto inizia a prendere forma. E anche il nostro sprone inizia a crescere. E l'incastro di ventaglietti e punti V è molto carino. Adesso vado a chiudere di nuovo. Dove sulla terza catenella. Dobbiamo fare il giro numero due. Quindi del punto V e l'aumento. Ogni volta che facciamo il giro del punto V. Facciamo sempre due catenelle. Perché dobbiamo scavalcare le tre maglie alte. E poi qui lavoriamo due punti V. Però ve lo faccio vedere. Ho fatto la catenella e vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Mi porto con maglie bassissime al centro per lavorare una maglia bassa. E non prendo tutta la costina della maglia alta. Ma prendo solo l'asola da dietro. E faccio una maglia bassissima. Vado a fianco. Maglia bassissima. Questo perché poi non mi dà fastidio quando vado a lavorare. Non si nota molto le maglie bassissime. Vado al centro. Lavoro una maglia bassissima. Catenella. Rientro nello stesso punto. Maglia bassa. Due catenelle di separazione. Uno. E due. Perché dobbiamo scavalcare le tre maglie alte. Se facciamo una catenella il lavoro viene molto tirato. Vado dove ho la maglia bassa. Dove ho segnato. Quindi dove ho l'angolo. Anche qui. Sulla maglia bassa devo lavorare l'aumento. E lavoro due punti V. Entro. Lavoro il primo punto V. Maglia alta. Catenella. E maglia alta. Separo l'altro punto V da una catenella. Filo sull'uncinetto e lavoro un secondo punto V. Sempre nella stessa maglia bassa. E mi vado a segnare dove ho fatto la catenella di separazione. Questo è il primo punto V. E questo è un secondo punto V. Due catenelle. Uno. E due. Qui al centro lavoro una maglia bassa. Due catenelle. Uno. E due. Dove ho la maglia bassa. Lavoro un punto V. Maglia alta. Catenella. E maglia alta. Due catenelle di separazione. Al centro lavoro una maglia bassa. Due catenelle. Qui ho la maglia bassa. Lavoro punto V. Maglia alta. Catenella. E maglia alta. Due catenelle. Al centro. Qui abbiamo il segno che dobbiamo fare l'aumento. Quindi sul primo ventaglietto lavoriamo una maglia bassa. Due catenelle. Tolgo il segno. E qui lavoro il primo punto V. Maglia alta. E catenella. Separo l'altro punto V da una catenella. E lavoro un secondo punto V. Abbiamo fatto anche qua l'aumento. Quindi alla fine una volta che riuscite a capire come funziona il punto è molto facile anche capire come fare gli aumenti. Perché noi l'aumento lo facciamo quando abbiamo il punto V. Il giro successivo sul primo punto V lavoriamo il ventaglietto. Dove abbiamo messo il segno lavoriamo la maglia bassa. E sull'altro punto V l'altro ventaglietto. Dal giro successivo invece sulla maglia bassa lavoriamo di nuovo. Due punti V. Il primo. Una catenella. E il secondo. E dobbiamo proseguire questa sequenza fino ad arrivare alle nostre lunghezze. Quindi adesso ripeto il punto V normale. Proseguite questa lavorazione. Ci vediamo al termine del giro. Così vi faccio rivedere come ripartire. E poi potete proseguire da sole. Terminato il giro numero 2. Devo ripetere il giro numero 1. Delle maglie basse e ventaglietto. Quindi questo è stato il giro dei punti V e maglie basse. Punti V e maglie basse separate da due catenelle. Abbiamo fatto l'aumento del punto V. Quindi questo è il primo punto V e questo è il secondo punto V. Una volta che ho terminato il giro vado a chiudere nella maglia bassissima. Nella maglia bassa con una maglia bassissima. E come vedete anche la chiusura si sta spostando. Ora devo lavorare maglie basse su maglie basse. Quindi qui ho la maglia bassa. Mi alzo con una catenella. Rientro nello stesso punto. Maglia bassa. Una catenella di separazione. Nel primo punto V lavoro il ventaglietto. Quindi qui lavoro 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Una catenella. Rientro 3 maglie alte. 1, 2 e 3. E il primo punto V l'abbiamo lavorato. Quindi questo è il primo aumento. Dove ho il segno, che ho segnato la maglia della catenella di separazione, qui lavoro la maglia bassa. Faccio sempre una catenella di separazione e sul secondo punto V lavoro un altro ventaglietto. di 3 maglie alte, 2 e 3, una catenella e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella di separazione. Mi segno la maglia bassa, perché poi il giro successivo faremo l'aumento del punto V. Sulla maglia bassa lavoro la maglia bassa, una catenella. Qui ho il punto V e all'interno lavoro il ventaglietto di 3 maglie alte, catenella e 3 maglie alte, 2 e 3. Una catenella sulla maglia bassa, una maglia bassa, catenella. Qui lavoro il ventaglietto di 3 maglie alte, 2 e 3. Catenella e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella, qui la maglia bassa e sulla maglia bassa, una maglia bassa, catenella e qui lavoriamo di nuovo il nostro aumento. Sul primo punto V, 3 maglie alte. Una catenella e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella, dove ho il segno lavoro una maglia bassa, catenella e ripeto il ventaglietto. Proseguo questa lavorazione fino a terminare il giro. Dal giro successivo invece, come vedete prende forma. Dal giro successivo invece, dove abbiamo il punto V, lavoriamo il ventaglietto. E dove abbiamo la maglia bassa, dobbiamo lavorare un punto V, con una catenella di separazione. E quando arriviamo a questo punto, dobbiamo fare l'aumento, quindi 2 punti V sulla maglia bassa. Andate avanti in questo modo e poi vi dico quanto è largo il mio sprone. Ecco come si presenta il mio sprone. Sono andata avanti con la lavorazione e ho raggiunto le mie lunghezze. Per quanto riguarda la parte lunga del davanti e del dietro, sono 40 centimetri. E la manica sono 30 centimetri. Quindi sono arrivata, non vado oltre, altrimenti poi scende troppo lo scalfo. Per la mia circonferenza servono altri centimetri. La mia circonferenza è all'incirca sui 45 centimetri, davanti e dietro. Quindi i centimetri che mi mancano li vado a raggiungere con 8 catenelle, nel mio caso, che è il multiplo. Quindi voi andate avanti con la lavorazione. Una volta che avete raggiunto il sottomanica, vedete se vi mancano centimetri. Se vi mancano i centimetri, basta aggiungerli con il multiplo del motivo, che è di 8. Nel mio caso servono solo 8. Se voi dovete aggiungere due motivi, basta che aggiungete 8 più 8. Quindi adesso vado a unire. Io mi sono fermata con il motivo del punto V e maglia bassa all'interno del ventaglietto. E vado a lavorare come si presenta il motivo successivo, quindi dove ho il punto V, vado a lavorare il ventaglietto. E sulla maglia bassa lavoro la maglia bassa e vado fino dove ho messo il segno. Quindi piego a metà il filo, ce l'ho da questa parte, ecco dove ho il filo, e vado a riavviare di nuovo la lavorazione. Se invece vi trovate con dove avete fatto il... dove ho messo il segno e il punto basso, dovete fare la stessa cosa. Sul punto basso lavorate il punto V e le catenelle necessarie che vi servono per unire il davanti con il dietro. E poi qui vi attaccate con il punto basso. E qui noi lavoreremo il ventaglietto sul punto basso, poi lavoreremo il punto basso e sulle catenelle il ventaglietto. Quindi comunque ve lo faccio vedere. Allora, avvicino la telecamera. Ok. Sono arrivata a questo punto, ho lavorato la maglia bassa, faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3, e rientro e lavoro altre 2 maglie alte, 1 e 2. Una catenella, rientro nello stesso punto, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una catenella, sul punto basso, punto basso, 1 catenella e proseguo fino ad arrivare dove ho il segno. Sono arrivata dove ho il segno. Quindi sul primo ventaglietto lavoro sempre, sul primo punto V lavoro sempre il ventaglietto di 3 maglie alte, 1 catenella e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. La catenella, qui ho il segno e lavoro all'interno una maglia bassa. Raggiungo 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Piego a metà in questo modo, vado dove ho l'altro segno e qui lavoro l'altra maglia bassa. Vado qui, maglia bassa e questo è il mio sottomanica. tolgo il segno, sul punto V che ho a fianco, faccio una catenella, sul punto V che ho a fianco, lavoro il ventaglietto all'interno, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella, continuo la sequenza come ho fatto fino adesso. Ci vediamo dall'altra parte per unire di nuovo il davanti con il dietro. Mi ritrovo dall'altra parte dove ho messo il segno. Ho lavorato il ventaglietto, dove ho il segno entro e lavoro una maglia bassa, 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Piego in questo modo, vado dove ho l'altro segno, lavoro la maglia bassa. Una catenella, tolgo il segno e dove ho l'altro punto V lavoro il ventaglietto. E proseguo questo fino a terminare il giro. Poi vi faccio vedere il giro successivo, come lavorare sulle catenelle. Non devo più aumentare, quindi finisco con gli aumenti e proseguo dritto per la lunghezza. Se invece voi volete avere la parte di sotto più larga, quindi arrivate alla vita e la volete più larga, oppure già dal seno, volete allargare un po', io il motivo non lo tocco. Faccio delle catenelle in più nelle catenelle di separazione. Quindi se qua faccio una catenella, il giro successivo ne faccio due. E dove ho il giro dove faccio due catenelle di separazione, ne faccio tre. Quindi faccio gli aumenti con le catenelle, ma il motivo non lo tocco. Andate avanti e ci vediamo dopo quando arriviamo sulle catenelle. Terminato il giro e con le catenelle, come vedete, io mi trovo giusto giusto con 45 cm. Quindi tirando le catenelle di qua e di qua sono 45 cm. Poi il filato è un po' elastico, mi ritrovo giusto. Quindi adesso vado a lavorare di nuovo i due motivi punto su punto e anche sulle catenelle. E ho chiuso adesso nella terza catenella con una maglia bassissima. Mi sposto con maglie bassissime, prendendo sempre l'asola da dietro. Infatti, come vedete, non dà molto fastidio poi quando dobbiamo lavorare. E dove ho la catenella, entro dentro, lavoro una maglia bassissima. Qui devo lavorare la maglia bassa. Quindi entro, maglia bassissima, catenella, rientro, maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2. Sulla maglia bassa sottostante, un punto V. Catenella, maglia alta. Catenella, 2 catenelle. Al centro, maglia bassa. 2 catenelle. Sulla maglia bassa, un punto V. Andate avanti, poi vi faccio vedere come lavorare sulle catenelle che abbiamo aggiunto. Se casomai voi non avete bisogno di aggiungere le catenelle, con una maglia bassa vi unite questo con l'altro punto. In questo modo, senza aggiungere catenelle. Quindi entrate dove abbiamo messo il segno, qui ho il segno, lo tolgo. Entrate da questa parte e da questa parte e chiudete con una maglia bassissima, prendendo una maglia bassa, prendendo tutti e due i punti V. Sono andata avanti con la lavorazione, quindi dove ho il punto V ho lavorato sempre il motivo. Il motivo non è cambiato. Mi ritrovo sulle catenelle. Ho fatto la catenella di separazione, salto 3 maglie di base. 1, 2, 3. Nella quarta lavoro una maglia bassa. Catenella e mi ritrovo direttamente sul ventaglietto. Sul punto V dove all'interno lavoro il ventaglietto. E devo fare la stessa cosa anche dall'altra parte. Quindi il motivo non è cambiato. Se invece voi volete aumentare un motivo in più perché volete più larghezza alla maglia, ma quando lavorate il ventaglietto andate direttamente nella catenella a fianco e lavorate la maglia bassa. Catenella, saltate 3 maglie di base. 1, 2, 3. Nella quarta lavorate il ventaglietto, quindi sempre la sequenza. Solo che aggiungiamo un motivo in più. Catenella, 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella e vado qui dove ho la catenella e lavoro una maglia bassa. E così abbiamo aggiunto un motivo in più. E qui lavoriamo il ventaglietto. Io invece lavoro come vi ho fatto vedere perché non ho bisogno di aggiungere un motivo più perché ho raggiunto la mia larghezza. Se casomai avete voi bisogno di aggiungere questo motivo perché avete un seno più abbondante del mio, quindi volete più larghezza sul davanti, fate come vi ho fatto vedere adesso. Io invece salto 1, 2, 3 e nella quarta maglia bassa, catenella e qui lavoro il ventaglietto di 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Catenella e 3 maglie alte. Quindi la stessa cosa fate da questa parte e anche dall'altra parte. Dal giro successivo invece lavorate dove abbiamo il ventaglietto lavoriamo il punto V. Quindi qui sulle catenelle io mi ritrovo la maglia bassa e sulla maglia bassa lavoro il punto V. Sul ventaglietto una maglia bassa e qui sulla maglia bassa il punto V. E proseguo la lavorazione come ho fatto fino adesso. Se casomai volete allargare ulteriormente la vostra maglia aggiungete una catenella in più. Qui dove abbiamo la catenella di separazione ne fate due. E qui due catenelle. Invece nel giro dove abbiamo fatto due catenelle potete fare tre catenelle di separazione. Però questo lo vedrete quando andrete avanti con il lavoro. Quindi man mano proseguite misurate e vedete se volete allargare ulteriormente il vostro lavoro. Ci vediamo al termine del lavoro. Ecco come si presenta la mia canotta o maglia. Ho iniziato dal top down. Come vi ho fatto vedere nel video abbiamo angoli in comune con il punto basso e il punto V. E facciamo l'aumento sempre con il punto V. Sono andata avanti fino ad arrivare alla lunghezza dello scalfo. Ho aggiunto solo 8 catenelle che è il multiple per me andava bene. Quindi aggiungendo 8 catenelle ho raggiunto la mia circonferenza che è di 45 sia sul davanti che sul dietro. Però andando avanti con la lavorazione da 45 perché poi la maglia è elastica e il punto è bello elastico. Mi ritrovo con una circonferenza sul davanti di 50 e sul dietro di 50. Quindi ho una circonferenza comoda di 100 centimetri. Arrivata a 35 centimetri ho voluto usare, ho voluto cambiare colore per dare un po' più carattere al capo. Siccome il protagonista ha il colore quindi ho voluto dare questo stacco di colore. Ho usato il multicolor sfumato sempre della tre sfere e ho lavorato fino a un totale di 50 centimetri circa. Poi questo è il risultato. Nell'info box vi lascio tutti i dettagli e anche il numero del filato. Se voi volete potete farlo con un filato unico o multicolor o un filato con tinta unita. Per quanto riguarda questo progetto il punto è molto semplice, molto carino ed ha un effetto anni 60. Detto ciò il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, ho un gruppo facebook che si chiama Le Creazioni di Carola e le Amiche di Uncinetto. Se volete fate un commento, tanto è tutto gratis. Ciao e grazie per la visione.